fino al 22 settembre da Shadow Ducks non vendiamo cara la pelle 599 euro di qualità e lavorazione artigianale forme avvolgenti e generose che vi faranno stare davvero comodi affidatevi all'esperienza dei professionisti Shadow Ducks per arredare con gusto anche tutto il resto della casa scegliendo un mobile living per esempio spazioso e funzionale una cucina moderna a scelta fra tante finiture di anta completa di elettrodomestici innovativi e una camera da letto coordinata armadio comodini e un letto completo di materasso e parur con una soluzione esclusiva che ti dà tanto spazio in più tutto questo con lo speciale 10 più 10 10 anni di assistenza garantita su tutti i prodotti Shadow Ducks e sulla tua casa che potrai acquistare corrate a partire da 10 euro al mese ogni casa in desiderio riuscito Shadow Ducks